Senata particolare quella di ieri nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti si è svolta l'esibizione dei ballerini dell'associazione culturale argentina Tango Essenzia allo spettacolo allestito nello spazio solitamente dedicato alle attività sportive preceduto da una scena hanno assistito i detenuti l'iniziativa è stata voluta dalla direzione in applicazione delle direttive dell'amministrazione penitenziaria di organizzare momenti di incontro e socializzazione per alleviare il disagio dei reclusi e favorire riflessioni sulle molteplici possibilità della comunicazione ascoltiamo una dichiarazione della direttrice Giuseppina Ruggeri situazioni di questo tipo in cui ciascuno dà il proprio contributo per la buona riuscita rende più coeso il personale e il personale con la popolazione detenuta limitando le situazioni critiche grazie grazie